buongiorno e buon inizio del weekly vlog ma che buongiorno e buongiorno buonasera è sabato sera e stiamo andando sabato sera stiamo andando al compleanno di still di andrea non di andrea ma di still e mi sono già preparata come vedete ho messo una ecco il tuo regalo piri un whisky mi prende in giro comunque dobbiamo portare le torte che gli abbiamo preso il ferrari quella roba schifosissima dolce e adesso andiamo a casa sua a mangiare le pizze siamo tutti quanti insieme perché la volta scorsa doveva festeggiare anche il suo compleanno insieme al mio ma alla fine abbiamo deciso di fare una doppia festa per rifesteggiare mi vergogno un po a casa degli altri in realtà non so neanche se da fastidio però comunque dopo forse andiamo a prendere i pokemon e quindi riprenderò sicuramente dopo vi dirò com'è andata la festa siamo appena usciti dalla casa di still aspetta aspetta siamo tutti impannati stiamo andando adesso a casa perché domani mattina giochiamo a softair e dobbiamo riposare quindi siamo molto stanchi poi andrea adesso deve caricare su un grattini ha preso un grattini sia per me che per lui e adesso caricherà tutte le batterie giusto donne in bici che voglia ciao e quindi niente adesso andiamo a casa facciamo tanta nina tra l'altro abbiamo mangiato la porta fa gli scherzi michele cioè vabbè non era michele non era michele chi era eri tu eri tu eri tu eri tu eri era angelo come diceva la mia profe è pan bagnato beh ad esclusione riusciamo a trovare il colpevole abbiamo mangiato una torta che abbiamo preso tra l'altro di andrea alessi lunga una in sei due esatto due che era praticamente zucchero montato zucchero cioè oh wow questo nuovo buongiorno buona domenica stiamo andando a giocare a softair ci stanno aspettando che andiamo al bar calcolazione no andiamo al mac oggi si vabbè al mac calcolazione poi dopo andiamo a giocare mi sono molto entusiasta oggi perché mi fa malissimo il collo mmm benvenuti nella natura adesso mette le canzoni com'è che si chiamano jbd cosa devi scrivere jbd jbd jdm song su tutte canzoni vai balla micchi ripeti cosa hai detto oggi la bella giocata che ho fatto di quelle cose quegli atti michele lo sto continuando a sorprendere la cosa bellissima perché sorprendere un piccolo guardate adesso andiamo a casa mangiamo poi ci ci laviamo poi mangiamo ci hanno grigliato già subito si molto una fame perché ieri abbiamo preso all'estero io la cintura non ho messo ragazzi non imitate gloria sì ma in tutto non solo nella cintura no no vabbè eravamo abbè partiti comunque stavo dicendo cosa stavo dicendo ieri abbiamo comprato all'estero e gli spirini e poi cosa ho preso per me tipo ah no dobbiamo fare le bruschette perché quando siamo andati su una viglia assaggiate le bruschette con la burrata la stracciatella all'interno della burrata sarebbe la stracciatella sopra le bruschette con i pomodorini e la cipolla quindi volevo rifarle infatti ieri abbiamo preso le bruschette ci abbiamo preso il pane che tagliamo poi lo fa un attimo abbrustolito e le preparo io va bene tu mi brustolisci solo ci faccio tutto io mi sono appena docciata andrei uscito un attimo perché abbiamo finito la bombola del gas e io ho preparato intanto il piattino per gli spirini di tonino e adesso preparo per le bruschette famose che vi dicevo perché intanto mi chiedete ogni volta perché non fai vedere quello che cucini e quindi oggi vi farò vedere adesso inizio a tagliare la cipolla e i pomodori se vi piacciono potete anche metterci un po' di pomodori farò una ciotola proprio condita anche con un po' d'aceto e potete anche variare balsamico o bianco dipende dai vostri gusti e niente trito tutto taglio i pomodori faccio olio e sale aceto balsamico in una ciotola quindi poi quando andrea fa le bruschette sulla griglia che appena torna che mette la bombola nuova del gas facciamo le bruschette e poi dopo ci metto la stracciatella e il condimento ciao Winnie ciao allora adesso ho messo la stracciatella sopra e sto mettendo tutto il trito di pomodori e quello che vi ho detto prima è molto molto buono wow davvero? ho assaggiato mentre preparavo i vesti e poi di qua che cosa c'è? vai per vedere e qua c'è la grigliata sono gli spiedini di pesce, gli spiedini di tomino i rosticini di pollo, la salsiccia piccante e le bistecchine piccanti e questa è la nostra grigliatina già già che fame ragazzi buongiorno e buon lunedì un lunedì senza Andrea perché è ritornata al lavoro le sue ferie sono finite io mi sto per preparare la colazione e ho già snapchattato di prima mattina perché volevo farvi troppo sentire freglie quando mi sveglia che mi angola in un modo assurdo cosa mi sto preparando? ho dei baci di dama al cioccolato da finire che mi ha dato la mamma di Andrea poi ho questa qua che è la marmellata di fragole il burro e le fette biscottate e mi sto preparando il tè ovviamente nella tazza invernale perché I miss you winter e quindi adesso sto cercando di vedere quale dei tanti tè perché qua ci sono tutte le mie tisane tutti i miei tè e ce ne sono altri anche qui anche da questa parte e anche qua dentro sì insomma sono un po' una malata ah e anche qua anche qua dentro qua dietro sono un po' una malata di tisane e tè quindi sto cercando ma cos'è sta roba? sto cercando il tè perfetto ma mi sa che vado di frutti di bosco e vitamine quello solito che mi piace tantissimo e cosa farò oggi? farò un sacco di cose al computer perché devo rispondere poverina un sacco di persone via mail perché in questi giorni che c'era a casa Andrea non ho cagato praticamente nessuno sicuramente dovrò montare un video che ho fatto dei miei regali di compleanno che voi spero avrete già visto è un po' un problema adesso perché ho il salvataggio di tutte le cose di Final Cut ho 500 giga che li faccio fuori subito appena già monto tre video e poi volevo girarne un altro e niente adesso io faccio colazione magno, mi lavo, mi vesto e ci vediamo dopo allora sto per fare la pappa voi mi vedete sempre mangiare ma in realtà io ho fatto tante altre cose stavo pianificando anche dei video da fare in settimana comunque per il resto del mese e dato che poi dal 7 al 10 non ci sarò ho pensato di mettermi sotto come vi ho detto prima stamattina di registrare registrare proprio tutti i video tipo oggi volevo fare l'all il try on quindi provare diversi vestiti e le borse che mi sono arrivate bellissime sul letto che tra l'altro devo metterle in lenzuola perché le ho messe a lavare stavo pianificando i nuovi video quindi non voglio spoilerarvi nulla mica che ci è arrivata a leggere niente adesso mangio la pappa bevo il mio tellimone nella mia bricchettino di starbucks poi mi finisco già che ci sono lo zola e il couscous di ieri che non ho finito perché era abbastanza piena la sera allora sto passando da un social all'altro da un dispositivo a un altro non ce la faccio più non ho più voce tutto il pomeriggio che sto condividendo con voi su instagram snapchat facebook tutto quello che sto facendo perché è molto più semplice col telefono sono già lì a far foto o altro quindi ho fatto già un po' di snap e come si chiamano gli snap di instagram boh non lo so comunque mi viene anche da parlare veloce perché sono abituata ai 6 secondi di snapchat vabbè ho fatto il video il try on haul sono contentissima perché non sapete da quant'è che volevo farvi un try on haul in più vi ho mostrato anche alcune cosine nuove tra cui gli zainetti che vi dicevo quindi se ve lo siete perso andatelo a vedere e se non l'ho ancora pubblicato attendete perché se lo pubblico a breve comunque ho svuotato anche la chiavetta cioè la card adesso sistemo tutti questi vestiti tutto questo casino che li preparo di nuovo nelle buste perché sono i vestiti che mi porterò con me settimana prossima li ho presi proprio apposta poi erano comunque dei regali di compleanno cioè non i vestiti nel senso i soldini per comprarmi le cosine sono presa delle cose che mi servivano e comunque che ho visto che mi piacevano e se tutto il pomeriggio che sono seduta su sta sedianina streaming sita ci sono due puntate di combi a ninja sono non so se sono le ultime perché se ne fanno due l'altra volta erano due vabbè molto triste perché nonostante sia un telefilm trash boh non lo so a me piace è una cagata assurda ogni volta che lo vedo dico che merda però è bello cioè lo insulto però mi piace mangeremo la pizza perché adesso sto facendo tipo i conti ho notato che ogni ogni giovedì gloria giovedì ogni martedì facciamo la pizza perché ci sono i combi a ninja e mi ricordo di combi a ninja pizza se ve lo state chiedendo questo viene da Choyes l'ho detto anche nel video haul la tinta è LAX di color pop tra l'altro quando ho preso queste calze volevo farvi vedere una roba cioè io appena ho preso queste calze ho detto ok sembrano le calze Ikea cioè Ikea non vende le calze ma sembra il compensato di Ikea guardate se magari metti a fuoco sembra la roba tipo del compensato di Ikea io ho dei seri problemi ragazze aiutate questa ragazza nel riflesso di nuovo un casino sta stanza io non so più cosa fare niente mi ci metto adesso sistemo tutto guardate questa povera piantina che sta dormendo si sta dormendo sta morendo ho comprato quest'aloe alesse lunga e era di un bel verde acceso adesso è diventato un verde marrone schifosissimo però vedo che più verde al centro mi sa che si sta riprendendo perché l'ho svasata e l'abbiamo rinvasata Andrea l'ha rimessa in questo c'è l'ha messa poi in questo vaso bianco bellissimo e fa molto tumblr io sarei quella che vince perché perdo un sacco di tempo nel cazzeggiare cioè sono la donna del cazzeggio cioè io ho detto Hunter è un disco rotto e tu? è uno spruzzotto è uno spruzzotto è spruzzotto hai capito proprio tutto sentite continua adesso mangi mamma mia non mangi solo da un'ora guardate che bella la mia pizza oggi ho deciso di fare la half quindi metà rucola pomodorini e grana e metà zola e mele che sono le mie due preferite in realtà vabbè io adoro un po' tutte le pizze perché mi piacciono tipo quelle frutti di mare o un sacco di la tua imbarazzante amore oh mio dio c'è la tua imbarazzante davvero allora promesso visto che nei vlog durerebbero secondo me troppo tempo faccio un video a parte su come facciamo noi le pizze facciamo queste due proposte tipo proposte hai messo il sale? ho già fatto la tua no la mia è pronta io metto perché io metto forte sempre ah in tutto ciò hanno tolto in cumbia ninja stasera ci dovevano essere e vai come vi ho detto dovevano esserci due stagioni magari dunque due coglioni però dovevano essere due puntate e non so se neanche se erano quelle finali hanno messo Frankenstein Junior che vabbè è figo però io voglio sapere adesso sì vabbè però io voglio sapere dove e quando faranno dì se saranno se saranno la battuta di Froglooker perché cosa vuol dire perché fanno che si sentono i cavalli dillo dillo l'hai detto Ted rispondete perché si sentono i cavalli ah non devono rispondere loro scrivi perché ah ok se sanno il motivo per cui in Frankenstein Junior ogni volta che dicono Froglooker si sente in lontananza lo sapete se lo sapete scrivetelo nei commenti così andresti a divertere le pause di lavoro a leggervi quindi non usciamo perché tu vuoi vedere Frankenstein Junior mi sono vestita per niente quindi mi posso struccare o mi è diventata una cimice Pini Pini perché fa così nuota perché ubria nuota eh vola era lì l'altro faceva così cos'è che la tua faccia vai sta nuotando sta nuotando in un bar di carta questo è sarà i residui della tua merenda e si vede che è cioccolato non è cioccolato bab è cannella è cannella l'avrei detto era la seconda possibilità la seconda opzione allora facciamo un bel disegno cosa miagola perché non dici a youtube che hai fatto una giornata a fare lo scherzo che stavi male e invece già avevi solo caldo e dormivi si ne hai fatti vergognati e invece ci avevi solo caldo un giochibono un giochibonino un pozzino oh ma che ti fai male ma lo vedete con quale potenza si autococcola il culo no dai